Sura 67 La Sovranità Il nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso Benedetto colui nella cui mano è la sovranità, egli Onnipotente, colui che ha creato la morte e la vita, per mettere alla prova chi di voi meglio opera, egli è l'Eccelso, il Perdonatore, colui che ha creato sette scieli. Sovrapposti senza che tu veda alcun difetto nella creazione del Compassionevole, osserva, vedi una qualche fenditura, osserva ancora due volte e tuo sguardo ricadrà stanco e sfinito. E che scoppi di rabbia ogni volta che un gruppo vi è precipitato. I suoi guadagni chiedono. Non vi è forse giunto un ammonitore? Risponderanno, sì, ci è raggiunto un ammonitore, ma noi lo tacciamo di menzogne e dicemmo, Allah non ha fatto scendere alcun che, voi siete in evidente errore. E diranno, se avessimo ascoltato o compreso, non saremmo tra i compagni della fiamma. Riconoscono il loro peccato, che siano ridotti in polvere i compagni della fiamma. Coloro che invece temono il loro Signore, in ciò che è invisibile, avranno perdono e ricompensa grande, sia che nascondiate i vostri intendi o li palesiate. Egli ben conosce quello che contengono i petti. Non conoscerebbe ciò che egli stesso ha creato, quando egli è il sottile e ben informato? Egli è colui che vi ha fatto remissiva la terra, percorretele in lungo e in largo, e mangiate la sua provvidenza, verso di lui è la resurrezione. Siete forse sicuri che colui che sta nel cielo non vi faccia inghiottire dalla terra quando trema? O siete sicuri che colui che sta nel cielo non scateni contro di voi un uracano? Conoscerete allora il mio avvertimento. In vero, coloro che gli precedettero già tacciarono di menzogna quale fu la sua riprovazione. Non hanno visto sopra di loro gli uccelli spiegare e ripiegare le ali? Non li sostiene altri che il compassionevole. In verità, egli osserva ogni cosa. Chi potrebbe costituire un esercito per voi e chi potrebbe soccorvervi all'infuori del compassionevole? E i miscredenti sono in preda all'inganno. Chi provvederà a voi se egli tratterrà la sua provvidenza? No, essi esistono all'insolenza del rifiuto. Colui che cammina con il volto rivolto al sole è forse meglio guidato di colui che si erge camminando sulla retta via? Di, egli è colui che vi ha creati e vi ha dato l'udito, gli occhi e i cuori, quando gli siete riconoscente. Di, egli è colui che vi ha sparsi sulla terra e verso di lui sarete riuniti. Dicono, a quando questa promessa? Dicetelo se siete veridici. Di, la conoscenza di ciò che appartiene da là. Io non sono altro che un ammonitore esplicito. Quando la vedranno da vicino, saranno stravolti i visi dei miscredenti e sarà detto loro, ecco, ciò che vi ostinate a chiedere. Di cosa credete? Sì, che Dio faccia perire, ma è quelli che sono con me, sia che ci usi misericordia. Chi potrà proteggere i miscredenti da un doloroso castigo? Di, egli è il compassionevole, crediamo in lui e in lui confidiamo. Presto saprete che è in errore evidente. Di cosa credete se la vostra acqua rientrasse nella profondità della terra? Chi vi procurerebbe acqua sorgiva?